il match winner dal match tra il bisone massese e pablo andres garbini una prestazione super al di là del gol veramente una prova maiuscola in fase difensiva si sono molto contento con la mia prestazione la cercavo da tanto tempo dopo tanto tempo che non ho giocato che non giocavo ovviamente sono contento per me ma soprattutto per la squadra perché abbiamo vinto una partita molto difficile contro un gran avversario avevi di fronte giocatori come lombardi gioie benedetti attaccanti di qualità in dubbie ma ti sei disimpegnato bene con grande coraggio soprattutto perché su un terreno di gioco dove era davvero difficile giocare loro hanno tanta qualità in attacco però va bene sicuramente una grossa soddisfazione ben per noi dobbiamo continuare su questa strada qua perché non è la non è l'ultima partita che sarà così difficile ci mancano ancora anche sette finale quindi lavoriamo già da martedì per per vedere cosa succede con questo campionato per noi siete partiti al termine del campionato come hai detto tu 48 punti in classifica terza vittoria consecutiva veramente una squadra che non finisce più di stupire l'albissola sì il secreto è nel sacrificio di tutto il gruppo tutti i giocatori della rossa si impegnano al massimo e questi qua sono i risultati